Un fenomeno che si può e si deve combattere in tanti modi. In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sono due le iniziative che hanno visto in prima linea la questura di Monza e Brianza. Villa Reale ha ospitato un convegno promosso insieme al comune capoluogo per analizzare il terribile fenomeno dei femminicidi. A portare una toccante testimonianza, Filomena Lamberti, la donna campana che nel 2012 ha deciso di troncare la relazione con il marito violento che, per questo motivo, le ha sfigurato il volto con l'acido. All'evento hanno partecipato anche gli studenti dell'istituto scolastico Mosè Bianchi del liceo Frisia di Monza. Questi ultimi hanno presentato un sito, da loro interamente realizzato in lingua inglese, per favorire alle donne straniere l'accesso e agli agenzie di tutela e sostegno in caso di violenza. All'interno di Villa Reale è stato poi allestita dall'Associazione Libere Sinergie, la mostra come rivestita che racconta le storie di abusi attraverso l'esposizione di 18 manichini che intendono rappresentare in maniera fedele l'abbigliamento che le vittime indossavano al momento della violenza subita. Oltre a ciò è stata proposta anche una mostra fotografica, tanto a me non capita, la presentazione bianconero di momenti quotidiani di violenza psicologica. Domenica si è invece tenuta la seconda edizione di We Run for Women, la mezza maratona promossa dalla divisione anticrimine della Questura di Monza all'interno del Parco Cittadino. Oltre mille i partecipanti all'evento, organizzato in collaborazione con l'Associazione Monza Marathon Team. Siamo entusiasti di aver sforato il numero massimo di partecipanti addirittura in anticipo, commenta Marco Dorisio, Questore di Monza. Purtroppo la cronaca ci ha consegnato un altro dramma che vede coinvolta una giovanissima donna. La metafora di questa giornata di sport è che correndo insieme possiamo lavorare per vincere e abbattere questa terribile piaga.